Sono di nuovo qui e anche questa volta vi parlo di scambiatori di calore e questa volta vi parlo di rigenerazione e revamping di scambiatori di calore a piastre. Volevo farvi vedere qualche fotografia di alcuni interventi che abbiamo già realizzato su scambiatori di calore a piastre. Come sapete lo scambiatore di calore a piastre nella versione ispezionabile, quindi con guarnizioni apribile, ha il notevole vantaggio di poter essere ampliato, lavato facilmente e quindi rimesso a nuovo. In questo periodo dell'anno molto spesso ci vengono commissionati delle operazioni di revamping, quindi di rigenerazione completa di scambiatori, dove si va a ridare efficienza a quelli che sono scambiatori a piastre che magari sono in funzione da diversi anni e che necessitano di un lavaggio, di una rimessa a nuovo, diciamo così, per poter performare ancora al meglio. Solitamente lo scambiatore che ci arriva è in condizioni direi abbastanza disastrose. A quel punto la richiesta che viene avanzata è quella di rimetterlo nuovo. La prima operazione che si fa è quella di aprirlo e controllare le varie parti, quindi controllare lo stato di usura dei tiranti, lo stato di usura dei port lining e delle guarnizioni. Tipicamente quando facciamo operazioni di rigenerazione completa su scambiatori di calore suggeriamo di sostituire completamente anche le guarnizioni. Tutto sommato è un'operazione piuttosto costosa, piuttosto invasiva e nel momento in cui vado a lavare le piastre per rimetterle a nuovo conviene sostituire anche le guarnizioni e mettere un kit di guarnizioni nuovo. L'altra operazione che noi facciamo solitamente è quella del controllo con i liquidi penetranti. Una volta che le piastre vengono completamente lavate e pulite andiamo a controllare al 100% tutte le piastre con i liquidi penetranti. Questo per scongiurare presenza di micro forature, cric, dovute a fenomeni di corrosione e questo sarebbe un caso grave, o di erosione o semplicemente a un serraggio errato da parte dell'utente finale. Questo perché chiaramente una volta che viene richiuso lo scambiatore andare a cercare una perdita o una miscelazione diventa più complicato. Quindi prima di fare altre operazioni lavaggio delle piastre, controllo con i liquidi penetranti e scarto delle piastre eventualmente rotte. Quest'operazione ci consente anche di andare a capire eventualmente se ci sono delle problematiche insite nei fluidi che circolano all'interno dello scambiatore. Se notiamo dei fenomeni di corrosione diciamo così che scatta l'allarme nei confronti del cliente e lo avvisiamo che probabilmente i suoi fluidi non sono compatibili col materiale delle piastre. Una volta fatti i liquidi penetranti, scartate le eventuali piastre forate, si procede alla riguarnitura dello scambiatore, quindi si rimettono le guarnizioni nuove, si sostituiscono gli eventuali port lining danneggiati nel caso di scambiatori flangiati o i bocchelli filettati danneggiati, si richiude lo scambiatore avendo l'accortezza di sostituire i tiranti o comunque di pulire i tiranti esistenti, lo si rimette in quota di serraggio corretta e si fa il test in pressione per verificare che i due circuiti siano correttamente attenute e non ci siano perdite nello scambiatore. Una volta effettuato il test, lo scambiatore è pronto per essere riconsegnato al cliente. Solitamente mettiamo una nuova etichetta con la data di revisione, codici che identificano le operazioni che sono state effettuate sullo scambiatore. Altre operazioni che solitamente facciamo sono quelle di chiedere al cliente se bisogno di adeguare le prestazioni del scambiatore a delle nuove performance dell'impianto e a quel punto si può intervenire magari con degli ampliamenti, con delle modifiche al design delle piastre, insomma dando nuova vita allo scambiatore di calore a piastre. Buona giornata! Ciao! Ciao!